Ciao a tutti, oggi parlerò di yogurt. In riferimento all'articolo che ho scritto un po' di tempo fa, di cui mi avete chiesto in molti delusitazioni di merito, oggi con questo video cercherò di essere ancora più penetrante e più specifico. Allora, intanto cominciamo col dire che lo yogurt, quello che troviamo nei suoi mercati, non è un prodotto dietetico. Purtroppo contiene all'interno tantissimi zuccheri. Inoltre lo yogurt con scritto 0,01% di grassi, ok? È una bufala, perché purtroppo quei grassi che non ci sono più sono stati sostituiti dallo zucchero, quindi stanno introducendo un alimento con più zuccheri. Venirebbe utilizzare uno yogurt bianco, ok? E all'interno inserire, per addolcire ovviamente lo yogurt, la frutta fresca. Questo sarebbe l'unico alimento con cereso e sano che potete utilizzare. Purtroppo tante persone mangiano diversi yogurt pensando che sia un alimento sano. Purtroppo, ribadisco, lo yogurt che troviamo nei suoi mercati non è un cibo sano, è troppo carico di zuccheri. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividerlo con amici e parenti. E soprattutto, la condivisione deve essere fatta con le persone che tu pensi che possono trarre vantaggio da questo video. Grazie. 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 Grazie.